Ma mi doveva coprire durante il compito? Il suo posto lo prendo io Oh, sto cazzo è mio! E voi dovete litigare Eh, bisogna rifare? Ah, è il mio sogno! Farifila Aspetta, com'era? Dov'è la mattica? Che ti voglio impiccare con quel... Aspetta, aspetta Questo, vedi, è un quadratero ciclico Quindi puoi applicare il teorema di Brahma Gupta E vedere che... Allora, se non mi avverti prima C'è come ci passa Prima delle matrici Oppure ancora Ah, c'era una virgola, porca di quella Speriamo di non sputtanare tutto Con accenti, cose, eccetera E vabbè Speriamo di non sputtanare tutto